Mettere in rete associazioni, enti, imprenditori e gestori di attività turistiche ricettive affinché l'offerta turistica di Taranto risulti competitiva. Questo è l'obiettivo della tavola rotonda dedicata al turismo e al marketing territoriale che si è svolta stamattina nella sede dell'ACI. L'iniziativa, nata su impulso dell'associazione Taranto Turismo, è stata supportata dalla presenza dei portali Puglia Events, Paesi Online e Sanbrella Web, portali web aggregativi che offrono gratuitamente agli imprenditori del settore azioni di marketing e promozione turistica di rilievo, anche attraverso la pubblicizzazione degli eventi più significativi del nostro territorio. Diciamo che fondamentalmente l'obiettivo di questa giornata è quello di portare a conoscenza dei gestori della destinazione turistica e degli operatori turistici il modo per unire le singole risorse attrattive e trasformarle in un'unica offerta e prodotto turistico per tutto il territorio. Quindi il modo per far diventare destinazione turistica competitiva una qualsiasi località e quindi nella fattispecie la nostra città di Taranto. L'iniziativa alla quale hanno partecipato tra gli altri il vice sindaco Gianni Cataldino, il presidente dell'AMI Ugino Pucci e il direttore dell'Automobile Club Giuseppe Lessa, ha visto inoltre il coinvolgimento di Marco Polo, canale satellitare della piattaforma Sky dedicato ai viaggi, che trasmetterà un format per promuovere le risorse turistiche e le bellezze del territorio tarantino.